EnerPaper, lo si spiega dal nome stesso, produce di isolante attraverso la carta, completamente tutto di riciclo, per fare risparmiare sulle emissioni nelle città e sul gas per scaldarci. Il nostro prodotto in sintesi è il miglior prodotto di isolante green a un prezzo decisamente contenuto. Considerate che un appartamento può costare 1000-1500 euro ma ti può far risparmiare il 30% sulla bolletta. Il nostro prodotto è brevettato, siamo gli unici che producono un materiale in forma di bobina pulito e con prodotti chimici molto inferiori rispetto a qualsiasi altro prodotto sul mercato. Vabbè, allora, se sono cinque... EnerPaper è il miglior prodotto isolante a base di cellulosa al prezzo più accessibile. Vendigli la tua idea, Steve Jobs. Caro Steve, ti offro un'opportunità che non è soltanto un device, un IoT, ma è un prodotto di isolamento che potrebbe far risparmiare tante emissioni in atmosfera in tutte le nostre città e far risparmiare tanto sul gas. Siamo un'offerta il più possibile vantaggiosa perché non vuoi provarci. Anche perché se fai risparmiare 300 euro al mese per un appartamento all'anno sul riscaldamento, in due anni i nostri clienti potranno prendersi un iPhone gratis. Grazie. 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 Grazie.